Nessuna maggioranza in Frantumi, sono tre anni che c'è questa maggioranza, mai in nessuna occasione, nessun provvedimento portato in aula, portato nelle commissioni, hanno visto la maggioranza andare sotto, cosa che invece è capitata a chi ci ha preceduto, quindi spiace che le dichiarazioni vengano fatte dal collega Pepe, che era un assessore del governo D'Alfonso, dove dopo i primi due anni spesso e volentieri sono andati sotto, sia in consiglio, dove peraltro tre assessori per due anni e mezzo non hanno partecipato ai lavori di giunta in dissenso con l'allora governatore D'Alfonso, quindi credo che tutto vada ricondotto al semplice tecnicismo che ci sono per i lavori di commissione. Alcuni della maggioranza non hanno partecipato ai lavori della terza commissione perché stavano preparando altri documenti, l'opposizione è totalmente assente, come ho documentato fotograficamente, ai lavori della quarta commissione. In aula c'era solamente il collega Pepe, assenti tutti gli altri, compreso i 5 Stelle, quindi credo che sono dichiarazioni che non hanno alcun senso politico e soprattutto dal punto di vista amministrativo.